Cosa pensieri che per me non erano assolutamente da mettere in discussione, pensare alla terra piatta, ma guardiamo il video perché alla fine mi sono trovato con un caro amico, un pilota a tempo pieno. E con lui ho discusso mentre sorrideva nel parlare di questo, di come sono ritardati, di idioti, sono le sue parole, non le mie, di come sono queste persone ed io ho cercato di mantenere una mente aperta. Così gli ho chiesto se poteva scattare una fotografia da 9.000 metri o più dell'orizzonte, perché avevo già visto in altri video su YouTube, che i piloti hanno detto molte volte che hanno il preconcetto di vedere la curvatura della terra. Così mi ha inviato una fotografia fatta con l'iPhone dall'interno della sua cabina di pilotaggio, del suo aereo, mentre volava e mi ha scritto, guarda la terra è rotonda, chiuso l'argomento, punto esclamativo. Sapete come avesse detto fottuti idioti e cazzate del genere. E così ho deciso di caricarla su Gimp e ho trovato questa cosa abbastanza interessante. Diamo un'occhiata, ho aperto l'immagine scattata dal vetro del finestrino dell'aereo e apriamo gli strumenti. Se guardate laggiù è un po' sfocata, non si riesce a vedere bene l'orizzonte, ma se usate gli strumenti come quello per i colori, la luminosità e il contrasto, andiamo a lavorare sul contrasto fino alla fine a 127. Ora abbiamo una fotografia chiara dell'orizzonte qui, dove c'è l'orizzonte, bianco, blu, tenue e blu forte. Torniamo agli strumenti ed andiamo a disegnare una linea retta da qui e vedrete quello che vedo anch'io, forse. Ho fatto una linea retta, ben allineata e molto vicina. Mi pare vada bene. Ok, gente, vedete qualche curvatura sull'orizzonte? Questa è quella che il mio pilota, che vola per vivere, mi ha inviato come prova della curvatura della Terra. Non lo so, ma mi sembra perfettamente piatta. Proseguo il mio cammino su questa discussione e ho iniziato a mettere in discussione le cose che pensavo di non mettere mai in discussione.